Io ho praticato quello che per il monaco giapponese Usui è il Reiki, per gli hindù è il Prana, per i cinesi è il Ki, per gli egizi il Ka, per i Sufi il Baraka, per i Siuk il Vakan, per Ippocrate è la forza guaritrice della natura e per i cristiani lo Spirito Santo. Allora, che cosa ho fatto? Hai pregato? Io ho praticato quello che per il monaco giapponese Usui è il Reiki, per gli hindù è il Prana, per i cinesi è il Ki, per gli egizi il Ka, per i Sufi il Baraka, per i Siuk il Vakan, per Ippocrate è la forza guaritrice della natura e per i cristiani lo Spirito Santo. Allora, che cosa ho fatto? Hai pregato? Grazie. Grazie.